Un'amica in affitto è il nuovo blog di Margherita Zanatta Il mio blog si basa su racconti veri al cento per cento miei, delle mie migliore amiche Sabe esclusa perché me l'ha chiesto, l'ho sopplicato in giro e mi ha detto ok i miei amici, gente che ho conosciuto facendo l'assistente di volo l'animatrice di villaggio, di tutto e di più la radio, la radio, girando il mondo la escort la escort, nooo tutte storie tutte storie completamente vere cambio solo nome e location per fare in modo proprio di non ricondurre immediatamente all'identità il soggetto principale questa sezione si chiama non aprite quella bocca è tutti i mercoledì sera alle ore 21 mentre ci sono altre due sezioni una si chiama big fish come il film perché è fondamentale quello che fa la differenza è come uno racconta le storie quando parlate con una coppia che si è mollata la versione di lui e la versione di lei sono molto differenti quindi questi sono gli articoli del mio vecchio blog in big fish mentre nella pillola del giorno dopo scusate ma perchè big fish perchè no sembra ovviamente è un gioco però è ripreso dal film big fish dove c'è questo posto perchè è serio potrebbe non sembrare ma in realtà la zanatta quando fa le cose le fa seriamente quindi questo blog che ha l'aria un po' così lo scappatificale in realtà è studiato strutturato e molto serio basta con i dolci dicevi poi c'è la sezione la pillola del giorno dopo dove è per tenere a fresco il blog tutti i giorni perchè l'appuntamento sarebbe solo una volta alla settimana big fish è fisso perchè sono tutti gli articoli vecchi non avete quella bocca una volta a settimana mentre la pillola del giorno dopo è la massima dal punto di vista sentimentale relazionale uomo donna il classico consiglio che l'amica all'ultimo minuto ti da al telefono ecco questo è brava brava il consiglio è è fino al giorno dopo è sto uscendo con un figo pazzesco cosa faccio cosa mi trucco cosa mi ripeto cosa dico cosa non dico ma anche cose un po' più sostenute e spinge vabbè ma qui adesso non lo diciamo bevici subito un altro consiglio è dalla dalla più un po' vediamo ok margherita zanatta un'amica in affitto il blog da seguire tre volte alla settimana e l'augurio è che sia il più grande urba brava grazie margherita zanatta.urbampost.it grazie ragazzi brava ashtag un'amica in affitto ciao ciao grazie a tutti